Salve a tutti ragazzi e bentornati su JustLegendary Io sono Ale e oggi siamo su Survival Island Come forse vi suggerire il nome, Survival Island è un gioco survival Siamo in questa strana isola e dovremo sopravvivere Oh, bisogna trovare questi cristallini blu Che stranamente nella foto sono rossi, ma vabbè Abbiamo preso la carne Vai, ma perché? Io sto uccidendo i suoi parenti, nel frattempo continua a mangiare la terra perché non c'è l'erba E' già notte Ok, prendiamo il nostro primo cristallo Sembra un bosco? Vedo degli alberi Abbiamo trovato un cristallo Quindi dobbiamo trovare un'entrata E sull'entrata, indovinate chi c'è? Vai No, 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 no Oddio, guardate con quanta vita Un martello No, fermo, sì Sì, oh mio Dio Oh mio Dio, l'abbiamo ucciso Prendiamo il terzo cristallo Non è possibile che questo tizio si mangia una pecora al giorno Un orso, ragazzi Sopra la casa c'è un cristallo Dobbiamo salire sopra queste casse Preso Ho capito la tecnica, ragazzi Ci avventuriamo in mezzo al bosco E poi da dietro sbuchiamo Prendiamo il cristallo Eccolo Eccolo, eccolo invece Siamo a metà dell'opera, ragazzi Speriamo di non morire ora Quindi dovremo raggirare la montagna, forse Eccolo In mezzo al bosco È l'unica via, perché abbiamo esplorato tutto Uh, un cristallo Un cristallo Quindi siamo quasi alla fine, ragazzi No 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 E l'hanno fatto apposta, però E c'è un orso Cosa fa? Sta andando via Ma che cosa sta facendo Ma che cosa sta facendo Oddio, ragazzi Non si può salvare Avvicinandoci tentamente Sperando che rimanga a bloccare Ti prego Ti prego Oddio ragazzi Che paura Siamo arrivati? Sì Non ci ha visti Allora vediamo A questo punto Devo dire che sono in difficoltà Perché Non riesco a trovare gli ultimi due Procediamo random Eccolo No, non ci posso credere, ragazzi Non ci posso credere L'abbiamo trovato Una notte ora La passeremo Fermi Non voglio rischiare davvero Di perdere ora Dato che ci manca Solo un cristallino E forse questo è il momento Più difficile del gioco Dato che Dovremmo esplorare Tutta l'isola In cerca di quest'unico cristallino Niente Proviamo adesso Andare per mare Facile Oh aspetta Aspetta L'ho visto Ho visto Ho visto l'ultimo cristallo L'ho visto Eccolo E' lì E' lì, ragazzi Non ci posso credere Ce la stiamo facendo Siamo a un passo Della vittoria Vediamo, ragazzi Prendiamo il cristallo 10 su 10 Abbiamo vinto Ma perché non ci dice No, non è possibile Quindi dobbiamo solo Solo fare così Abbiamo raccolto tutti i cristalli Che altri possiamo fare Non capisco Non capisco Forse non abbiamo Oddio Dobbiamo affrontare un orso Anche se la vedo dura Ma guardate quanta vita ci togli Oddio 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 E' tutto ragazzi E come al solito Se avete qualche gioco da consigliarmi Scrivetelo Con un commento Noi ci becchiamo Come al solito Al prossimo video Ciao ragazzi